Non c'entra niente agli emigrati? 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 No, la Lega non ha mai fatto niente sull'immigrazione, effettivamente. Ma Sud non ha mai fatto niente. Anzi, ci avete sempre prestato. Noi ne parliamo volentieri quando vuole, però siccome lei è ospite di una trasmissione... Lei deve portare rispetto alla trasmissione che la ospita e alla gente che è qua. Dopo le parlo volentieri, però con rispetto. Quando io vado a casa di qualcuno porto il rispetto di quel qualcuno che mi ospite. Proprio. Non c'entra niente. Noi. Proprio. Proprio. A putti. A putti. Proprio. Abbiamo l'invasione da quattro mesi. E lei si presenta adesso. Se c'è la campagna elettorale. Ma la Regione si sta presentando. Lascia vedere il Presidente Crocetta tu, ma non si sta facendo vedere il Presidente Crocetta, è tutta l'assessore.